Allora Rosa Perna, un'altra importante vittoria, quindicesima stagionale, non conosce ostacoli questa La Coccinella, ma questa è una vittoria particolare. Sì, è una bellissima vittoria, stiamo cercando di raggiungere il traguardo che stiamo sognando, quindi piano piano, passo passo ci stiamo arrivando. Ecco Perna, si può dire che questa vittoria è arrivata soprattutto perché è studiata mantenendo i nervi saldi? Sì, è vero, è stata studiata, stiamo lavorando veramente tanto, il gruppo si sta unendo sempre di più, siamo sempre più compatte e abbiamo tanta voglia di arrivare prima in classifica. Allora, si è prima in classifica, anche non conoscendo il risultato dell'avversario che è appaiata con voi, ma tra le altre cose la prossima settimana voi avete la possibilità di dare l'allungo e a questo punto quasi chiudere il campionato. Sì, è quello che vogliamo fare, quindi continueremo a lavorare sodo perché vogliamo vincere, vogliamo continuare così. Coccinella forever! Mister, abbiamo detto con Perna questa è una vittoria pesante, ma soprattutto perché ottenuta mantenendo i nervi saldi. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, Giulianello si è presentata qui in formazione rimaneggiata. Voi avete fatto il vostro dovere, giustamente come avevi chiesto all'inizio di questa sfida delicata. Sì, sapevamo che questa è una sfida importante perché già all'andata il Giulianello ci ha messo in difficoltà, però sono uscite le ragazze con la voglia di vincere. Stiamo ottenendo ottimi risultati perché comunque dall'inizio del campionato siamo ancora imbattuti e in casa e fuori. Siamo fondamentalmente la miglior difesa perché abbiamo subito 18 dieti in 18 cari. Soprattutto numeri da capogiro perché 15 vittorie, non si conoscono praticamente sconfitte in casa in trasferta, una squadra imbattuta. Sono 105 le reti realizzate nella stagione ben 62 in casa dove si subiscono soltanto 8 reti, quindi dati che veramente fanno paura. Le ragazze quest'anno stanno dimostrando di essere davvero un palmo sopra, ma io l'ho sempre sabuto. È una squadra costruita sulle persone e ci siamo fidati delle persone e abbiamo scelto le persone per raggiungere questi obiettivi. Questa era una giornata fondamentale perché si incrociavano fondamentalmente le prime quattro del girone, noi con Giulianello e il progetto con l'Atletico San Lorenzo, quindi staremo a vedere i risultati degli altri campi e siamo speranzosi che il San Lorenzo ci faccia questo regalo e ci porti a più 6 dalla seconda.